Ciao ragazzi, vi presentiamo alcune proposte Nobel Sport per la caccia alla beccaccia. Oggi parliamo di calibro 12. Novità di quest'anno, PM40, 40 grammi dispersante. Abbiamo disponibili il pallino 7 e il pallino 10. Il nostro grande classico, la collezione beccaccia, borra in fibra, 34 grammi, polvere S4. Un grande classico, veramente amatissimo da tutti i cacciatori che sono venuti a trovarci a Caccia Village. Una proposta particolare di quest'anno per la caccia alla beccaccia nelle zone umide. Il nostro cartuccio è in bismuto, pallino numero 8 dispersante per la caccia alla beccaccia. Una cartuccia specialistica con pallini in bismuto in lega con lo stagno. Golden Wing, bossolo in cartone, una cartuccia nostalgica per gli appassionati. Borra in fibra, disponibile nel pallino del 6 e nel pallino del 9 per la caccia alla beccaccia e il beccaccino. Questo è un grande classico. E poi parliamo di qualcosa di tecnologico. Abbiamo già visto insieme a Caccia con Andrea prestigi dispersante a 35 grammi con dispersore a croce e piombo a doppio strato.